Lucien Freud nasce a Berlino nel 1922, la sua famiglia poi si trasferirà a Londra nel 33 all'avvento del nazismo e a Londra lui resterà fino alla morte avvenuta nel 2011 all'età di 88 anni. È un artista figurativo in un periodo in cui dominano le vanguardie, cubisti, surrealisti, astrattisti, per cui la ritrattistica è poco considerata. La madre Lucy Brasch apparteneva a una ricca famiglia tedesca di mercanti, mentre il padre Ernst, austriaco, ha una ricca famiglia ebrea. Era infatti il quarto dei sei figli di Sigmund Freud, che vediamo nella foto in alto a sinistra. Era un architetto modernista e qui vediamo una casa da lui progettata in questo stile lineare. Lucien aveva due fratelli. Era un ragazzo poco interessato alle buone maniere. Preferiva gli animali, cani e cavalli, agli esseri umani e nella scuola dove venne mandato con i fratelli andava a dormire nella stalla coi cavalli. Inizia a frequentare le scuole d'arte a 16 anni e fra il 39 e il 41 frequenta un istituto d'arte dove il suo maestro Cedric Morris gli insegna che per dipingere serve un'attenta osservazione del vero. A sinistra un ritratto che Freud fa a Cedric Morris nel 1940 e a destra il ritratto che Cedric Morris, che ha 52 anni, fa a Lucien nel 41. Freud è molto abile nel disegno, fa bozzetti, ritratti e qui ne vediamo alcuni esempi. Questo quadro del 39, 97 x 64, si intitola Memory of London, ricordo di Londra. A sinistra lui ha figura intera e a destra questa visione dall'alto di una strada con un grande tombino in marciapiede. I colori sono cupi, tipicamente cubisti. Intorno ai vent'anni ha talento, ma non ancora le idee chiare. Si lascia influenzare dalle correnti del tempo. Questo quadro si intitola Evacui Boi, ragazzo sollato, siamo in periodo di guerra nel 1942, è un 74 cm x 58 circa ed è chiaramente influenzato dall'espressionismo tedesco. Freud comunque, di sicuro, rifiuta l'astrazione, perché pensa che l'astrazione priva l'osservatore della possibilità di provocare qualcosa di più di un'emozione puramente estetica, e lui dice, voglio che la pittura sia carne. Freud dice, il mio lavoro è autobiografico, riguarda me e chi mi sta intorno. Lavoro con persone che mi interessano e di cui mi importa, in stanze che conosco. E partiamo proprio dagli autoritratti, alternati anche a foto, che ci consentono di parlare un po' della sua personalità e anche dell'evolversi del suo stile. Questo disegno del 39 è appunto un autoritratto con una prospettiva da sotto in su. Vedete la bocca leggermente aperta, grandi orecchi, occhi spalancati in un'espressione di curiosità e stupore. Molta cura nel disegnare i capelli. Lui dice di sé, ero molto solitario, parlavo poco l'inglese, e mi consideravano un tipo dal cattivo carattere, fatto del quale ero piuttosto fiero. Nel 43, questo uomo con piuma. Lo stile è della nuova oggettività, cioè un disegno con torninetti, una stesura piatta del colore, la figura frontale con in mano una piuma. Vagamente surrealista anche nella presenza di alcuni elementi curiosi, l'uccellino alla finestra, la sagoma di uomo al primo piano, e alcune sagome spesse a terra di forme varie, uccellino, fiore, non si sa. Del 46, è questo altro autoritratto, 61 circa per 50, che si intitola Man with a Thistle, cioè uomo con un cardo. E' sempre nello stile nuova oggettività, c'è questo strano cardo, questo largo davanzale, in primo piano, e la parte alta è suddivisa in due. A destra una persiana azzurra sfumata, e a sinistra lui, di tre quarti, serio, lo sguardo acuto rivolto verso l'osservatore. E' in realtà un ragazzo volubile, passionale, imprevedibile, un po' selvatico. Foto con zebra, è del 46, questa zebra impagliata gli è stata regalata dalla sua amante Lorna Wishard, la ritroveremo poi in un quadro. Questa è una foto in bianco e nero che Clifford Coffin gli fece nel 48 per la rivista Vogue, nel quale l'artista, vedete, bello e giovane come un attore, trattiene un falco appollaiato sulla mano sinistra, accuratamente guantata. Lui amava gli animali, cani, gatti, ritrarrava spesso i suoi cani Pluto e Dillai, ma anche possiede poi Anne, una coppia di sparbieri a cui dava da mangiare i toppi, che cacciava lui stesso lungo il canale di Regis Park. Vi troveremo in un ritratto anche proprio un topo. Siamo a Londra nel 1958, aveva difetti non proprio secondari, diceva di sé, sono assolutamente egoista, non lo dico vantandomene, ma come un dato di satto. E poi era individualista, menefreghista, disprezzava il pericolo. Man's Head, testa d'uomo. Un autoritratto del 63, è circa 53 per 50 alla Tate Gallery a Londra. Si ritrae da sotto in su, con una mano appoggiata sulla guancia. Lo stile è totalmente cambiato, molto più sciolto, anche perché ha incontrato Bacon. Lui beve, ma non moltissimo, ama invece molto gioco d'azzardo, perché il rischio lo affascina. Quando dipinge questo quadro, Reflection with two children, cioè autoritratto con due bambini, Freud ha 43 anni, siamo nel 1965. È un grande quadro, 91,5 per 91,5. E Freud si dipinge qui, guardando alla sua immagine, riflessa in uno specchio ai suoi piedi, con il risultato di ottenere un'immagine accorciata, e la luce sul soffitto come un alone sopra la sua spalla sinistra. I due bambini sono i figli Rose e Ali Boyd, ed è come se fossero inseriti successivamente in primo piano, fuori dalla cornice del suo ritratto. Come vedremo, era un grande donnaiolo, che mise al monto molti figli da donne diverse. Circa lo stile, Freud disse di aver usato un coltello per dipingere e lasciare lo spazio intorno a lui, cosicché sembrasse un vuoto strano, grigio e voluminoso. 68, 121,8 per 121, a collezione privata. Questo quadro si intitola Interior with Plant Reflection Listening, cioè interno con un autoritratto lui che ascolta le piante. È curioso in questo autoritratto, in cui lui compare piccolo in ascolto dietro la grande pianta in primo piano del suo studio, dipinta con grande accuratezza di dettagli e con anche alcune foglie appassite. Autoritratto con un occhio nero, del 1978, e un piccolo quadro, 18,8 per 14,3. Lui si è in un tipo rissoso e scontroso, per niente facile. In questo piccolo autoritratto, battuto poi da Sotheby's per una cifra andata oltre i 3 milioni di euro, lui si è in un 55 anni e si dipinge con un occhio nero. Dopo aver litigato con un taxista londinese ed essersi preso dei cazzotti, mette da parte dolore e rabbia e torna nel suo studio per fissare sulla tela il suo occhio livido. Dice, ho partecipato a molte risse, non perché mi piacesse combattere, ma semplicemente perché la gente mi diceva delle cose e l'unica risposta che riuscivo a dare erano i pugni. Un altro autoritratto incompiuto negli anni Ottanta. Altro autoritratto del 1985, 56 per 55 circa. Freud si ritrae a 63 anni, al momento del suo massimo successo. Frontalmente, busto leggermente rivolto verso a sinistra, lo sguardo puntato in basso verso destra, ma l'artista sembra assente e alcune rughe sulla fronte rivelano l'intensità del suo pensiero. I capelli sono corti ai lati, più folti verso l'alto, e conferiscono alla sua figura un carattere deciso, sottolineato anche dall'espressione del volto, il tutto in una cupa, attenta, posa riflessiva. Lucien dipinge senza distorcere la figura, ma con larghe pennellate, i colori restano naturalistici. In questo ritratto di profilo, l'espressione è decisa, volettisa, un po' rapace, con quel naso adunco. Famosissimo quadro del 1993 Autoritratto di pittore al lavoro Grande quadro, 101 circa per 81, è il suo unico autoritratto nudo a figura intera. E lui si raffigura pallido, pennelli e tavolozza in mano, in piedi, di fronte, nudo, con indosso gli scarponi da studio slacciati per proteggere i piedi dal colore che cade. Un quadro realista al massimo. Ha 71 anni e c'è qualcosa di trionfale in questa posa. Il pennello è alzato come il bastone di comando di un generale vittorioso. Il suo corpo, benché sia ancora tonico e muscoloso, mostra comunque i segni del tempo che passa. Qui l'artista fa ciò che generalmente fa da mattina a sera dipingere instancabilmente, lentamente, un quadro dopo l'altro e anche il periodo in cui fa i suoi capolavori. 2002. Lucien ha 80 anni e si fa questo autoritratto. Nelle rare apparizioni pubbliche si fa notare per la sua eleganza. è considerato uno degli uomini meglio vestiti in Gran Bretagna. Il tempo ha lasciato il segno nelle sue mani nodose che lui non risparmia di mettere in primo piano. Si diceva che è un ritrattista e ovviamente, dopo se stesso, i modelli più immediati sono i familiari. E partiamo dalle donne. Il suo studio era un viavai diamanti, si parla di 500, poteva averne più di una contemporaneamente. E anche in vecchiaia non si tenne vicino vadanti che si occupassero di lui a pagamento. La donna che viene immortalata nuda in questo quadro a destra il pittore sorpreso da un'ammiratrice nuda che è del 2005 è un grande quadro 137 per 106 circa si chiamava Alessandra Williams Wynne un'aristocratica gallese di oltre mezzo secolo più giovani di lui che fu l'ultima sommusa ovviamente amante perché arte e vita per Freud coincisero sempre. Fra le centinaia di amanti che ebbe il numero di baronesse contesse marchese duchesse strabiliante ma lui disse di essersi innamorato solo due o tre volte. Vediamo un po' le sue donne. la prima fidanzata seria fu Lorna Wishart nel 44 lui aveva 21 anni e lei più di 30 era ricca avventurosa romantica imprevedibile come vedete una bella bruna sofisticata amante del rischio e con un marito tollerante. lei gli regalò una testa di zebra impagliata che lui inserisce in un quadro per la sua prima mostra in una galleria. Eccolo la stanza del pittore 1944 62 circa per 76 centimetri in stile decisamente surrealista. Vediamo la zebra divano logoro sul pavimento un cappello a cilindro una lunga sciarpa una palma sul sul fondo e infatti alcune opere del bienio 1943 44 si ispirano al surrealismo però è solo un flirt perché Lucien dirà poi cosa c'è di più surreale di un naso tra due occhi ma torniamo all'orna che viene dipinta due volte nel 45 va notato che spesso i titoli sono piuttosto generici non riportano il nome del soggetto ritratto come per esempio questo quadro che si intitola Donna con un narciso 1945 piccolo 23 8 per 14 3 davanti è tracciato una specie di davanzale su cui è appoggiato il fiore adesso emergono le spalle e il volto girato verso sinistra di tre quarti della modella capelli pochi disordinati gli occhi sono rivolti verso il basso l'espressione seria quasi corrucciata sempre dello stesso anno sempre piccolo 24 per 14 è questo donna con un tulipano sempre di lorna la composizione è simile a quadro precedente cambia in colori il fiore che qui appunto è un tulipano e quell'orna è ritratta frontalmente lo stile di questi primi ritratti ricalca quello della tradizione della nuova oggettività cioè una forma di pittura realista che era comparsa in Germania agli inizi degli anni venti e che era caratterizzata da un disegno dei contorni netti con stesura del colore piuttosto piatta minime strumature lontano da ogni coinvolgimento emotivo in questa prima fase cioè tardi anni 40 inizio anni 50 Lucien parla di aggressione visiva nei confronti delle sue modelle dice sedevo molto vicino con la tela sulle ginocchia a uno o due passi da loro e lo osservavo con intensità tale che usciva volontariamente ingrandito e a volte ciò gli procurava addirittura mal di testa e mal d'occhi circa la loro storia sentimentale lei scoprì che lui lo tradiva e lo lasciò dopo alcuni viaggi nel 46 47 a Parigi e in Grecia torna a Londra Lucien e qui nel 47 conosce e poi l'anno successivo sposa Kitty Garman che è figlia dello scultore Jacob Stein il matrironio durerà solo quattro anni e nasceranno due figlie Annabelle e Annie e lei protagonista di otto ritratti tra il 47 e il 51 e qui lo vediamo primo questo del 47 questo ragazza con la giacca scura che è un 47 centimetri per 38 circa la Garman ha grandi occhi tondi guarda verso l'osservatore senza però guardarlo davvero e Lucien la presenta quindi mentre guarda nel vuoto immersa nei suoi pensieri rende diligentemente ogni singola ciocca ha dei lunghi capelli scuri e la sua pelle chiara famoso è anche questo ragazza col gattino 41 centimetri per 31 circa un primo piano molto ravvicinato in cui Kitty domina la scena tiene in mano un gattino stringendogli le mani intorno al collo con una presa tanto forte che sembra quasi strangolarlo seppure involontariamente tanto è assorta nei pensieri fissa qualcosa che fuori dal quadro con aria pensosa mentre il gatto guarda l'osservatore ogni elemento del quadro dipinto con molta scrupolosità usando pennelli di zibellino su una tela trama fine su tutti per vale questa luce chiara argentea questo quadro poi col titolo Girl with Cat ragazzo quel gatto presentato alla Biennale di Venezia del 54 Freud già abbastanza famoso viene scelto a rappresentare la Gran Bretagna insieme a Ben Nicholson e a Francis Bacon ragazza con rose è una grande tela di 105 per 74 circa del 1947 48 circa la datazione a volte vengono indicati come in questa occasione due anni consecutivi perché a Freud serviva molto tempo per portare a termine un quadro c'è da dire che anche quando è riportato un solo anno molto probabilmente l'opera era stata iniziata l'anno precedente Freud qui definisce ogni dettaglio dell'immagine l'incrasparsi dei riccioli il riflesso della finestra nella pupiglia della modella la paglia della sedia il velluto della gonna Kitty posa immobile per giorni e in un'intervista ricorda come alla fine si sentisse anch'ilosata quando posa per questo ritratto è incinta della prima figlia e alla luce e alla luce di questo elemento la rosa che la ragazza mostra potrebbe forse alludere al fiore dell'annunciazione e Kitty incarnare quasi una vergine moderna vediamo ancora vediamo ancora un quadro di Kitty di profilo ritratto con le finestre le imposte dietro e questo famosissimo ragazza con cane bianco anche questo del 1951 52 un 76 centimetri per cento 1,5 siamo sempre Kitty dopo un periodo di crisi matrimoniale è di nuovo incinta mostra un seno come talvolta appare i dipinti rinascimentali indossa l'anello nuziale e accanto a sé il ball terrier dono di nozze dell'artista anche qua estrema è la cura nella resa del tessuto del divano della vestaglia di lei e anche del pelo dell'animale e proprio per la precisione della pennellata la definizione netta dei contorni la critica ha visto in quest'opera un richiamo ai ritratti del pittore francese Engra c'è però anche la chain uno stile un pochino più sciolto che caratterizzerà poi la pittura successiva l'unica donna di cui si innamorò perdutamente fu Caroline in Blackwood una donna ricchissima erede Guinness che gli compra un'auto un priorato nel Dorset si sposano nel 1953 e la loro è una relazione tormentata che già dopo un anno scritti ora lei soffre depressione inizia a bere lui non beve molto ma imbalia del gioco da lei non avrà figli mi farà però una serie di ritratti ecco qua nel quadro a destra Girl in Bed ragazza a letto del 1952 che è un 45 e 7 per 35 a proposito di questo quadro uno dei biografi di Freud Jordi Gregg racconta un aneddoto il primo marito della Blackwood Robert Lowell si trova a morire dentro un taxi a New York nel 1977 proprio mentre stringeva dopo averlo acquistato per 28 mila sterline questo ritratto della moglie dipinto da Freud ancora qua Girl in Bed ragazza che legge del 52 una prospettiva dall'alto colori caldi come nel quadro precedente hotel bedroom è del 1954 95 per 61 all'inizio del 54 infatti Lucien viveva in una stanza dell'hotel la Louisiana a Parigi e sul fondo del quadro attraverso la finestra possiamo vedere le case dall'altra parte della strada vicino alla finestra Freud ritrae se stesso a figura intera in piedi in ombra la giovane donna in primo piano è proprio la moglie Caroline si erano sposati l'anno prima ma il loro rapporto era già in crisi lei si lamentava di fare la modella a tempo pieno circa il suo modo di dipingere notiamo subito che qui è cambiato Lucien ricorderà più avanti che hotel bedroom è stato il primo quadro dipinto in piedi in mani in tasca davanti di una finestra che lui aveva rotto per far entrare più luce così la sua pittura lentamente diviene più sciolta e libera non si siederà mai più a lavorare e Vecchiaia e utilizzerà un altro sgabello ma questo cambiamento di stile è certamente anche dovuto all'incontro anni prima con Francis Bacon infatti nel 1945 grazie all'amicizia con Graham Sutherland conosce Francis Bacon qui a sinistra il pittore inglese con cui condivide vita con più di vent'anni di amicizia e anche mercato infatti entrambi sono stati pittori figurativi in anni in cui questo tema non era di moda i loro reciproci ritratti sono l'emblema della loro differenza ecco il ritratto che Bacon fa di Freud nel 1951 Bacon studia il soggetto da una fotografia in genere mai dal vero e dipinge questa grande figura intera con pennellate veloci verticali mentre Freud fa questo ritratto di Bacon del 1952 olio su rame dopo averci a lungo pensato impiega tre mesi per fare esclusivamente il volto vedete con questa cura estrema di ogni particolare capello per capello specialmente la chioma i capelli dovevano essere una cosa che amava molto i due ritratti a confronto ci danno un'idea immediata dei due diversi stili comunque quella con Bacon è un'amicizia importante per Freud che dipende da lui inizialmente anche dal punto di vista economico e proprio vedendo come Bacon dipinge che Freud cambia abbandona la precisione dei contorni cambia pennelli lascia quelli di sbellino morbidissimi e finissimi adotta quelli di cinghiale e maiale che lasciano tracce evidenti delle pennellate quindi lasciano dei solchi di colore sulla tela però appunto Freud continua a dipingere nel suo studio lentamente pulendo il pennello in una pezza dopo ogni colpo lasciando sul pavimento pile di stracci sporchi le stesse che poi comparino anche nelle sue tele dal 1967 al 1977 ha il suo studio in una casa a Gloucester Terrace nel quartiere di Paddington un quartiere assolutamente out e progressivamente abbandonato da gran parte dei suoi abitanti per le sue condizioni di degrado e alcuni quadri lo ricordano nel titolo e contengono anche i dettagli dello studio ecco qua Interior e Paddington interno a Paddington un grande quadro di 152 centimetri circa per 114 ritrae un suo vecchio amico un personaggio di So Harry Diamond che qui è presentato come un giovane uomo con occhiali in piedi su un tappeto rosso con indosso un impermeabile Lucien descrive con minuzia le onde del tappeto le fronde ingiallite della palma la stringa la slacciata di una scarta l'uomo in mano una sigaretta e tiene l'altra chiusa a pugno a indicare uno stato di tensione latente che pervade l'intera scena è il primo ritratto che Lucien realizza nel suo studio a figura intera l'argentirio Paddington 2 grande interno Paddington 2 del 1968-69 una grande tela di 183x122 alla Tate Gallery a Londra Freud impiega un'angolazione cinematografica di una prospettiva dall'alto dipingendo in piedi per ritrarre una scena nel suo studio a Gloucester Terrace tutto lo spazio in diagonale della finestra e il centro della stanza è occupato da una grande pianta con i suoi rami contorti e il fogliame che è dipinta con una certa accuratezza le regole della prospettiva sono poco rispettate un po' alla Cézanne nel disegnare vang, zoo e tronchi della pianta al centro il quadro mostra una ragazzina la figlia Ib Isabel Boit semiduda sdraiata addormentata sul pavimento dello studio in una posa contorti naturale le spalle parallele al pavimento mentre bacino e ginocchia piegate sono parzialmente girate da una parte la scena ambigua e crea disagio nell'osservatore da un lato elementi naturali come la giacca del padre appresa alla parete e la grande pianta ma dall'altro c'è la stranezza della presenza di una ragazzina che dorme nuda per terra la luce si diffonde pacatamente nella stanza ecco forse Lucien ha trovato una fonte di ispirazione in questo quadro di Matisse a sinistra il pittore e la modella che è del 17 stessa diagonale della finestra scuro sul muro ma sono anche molte diversità comunque in questo dipinto di Freud compare un nuovo tipo di bianco granulare pastoso un prediletto bianco di Kremnitz altamente tossico fatto arrivare dalla Germania che caratterizzerà l'opera della maturità anche in questo caso la tavolozza è piuttosto sobria con una forte presenza delle terre totalmente naturalistica con colori miscolati tra loro senza mai l'uso dei primari puri perché per Freud il colore ha solamente una funzione descrittiva non un valore emozionale nelle sue opere l'emozione è creata dalle forme dall'impasto non dal colore vi diceva non voglio che si noti il colore voglio che il colore sia quello della vita così ti accorgerai che essendo irregolare è cambiato non voglio dipingere come i modernisti Matisse Picassi che considerano il colore qualcosa di indipendente night interior interno notturno è del 69-70 un 56 per 56 siamo sempre nell'appartamento di Paddington l'immagine presa dall'alto e dall'angolo destro col risultato di distorgere la prospettiva degli oggetti nella stanza sono inclinati il muro l'armadio la finestra a destra lavandini e stufa quasi al centro seduta di traverso su una poltroncina con braccioli una ragazzina col capo abbandonato sullo schienale e gli occhi chiusi una cosa molto comune nei dipinti di Urcien e le pennellate sono veloci a dare un'idea dei soggetti senza entrare nei dettagli rincontriamo Harry Diamond in questo interno di Paddington del 70 una tela quadrata 71 di lato questo dipinto mostra Harry Diamond nella stessa stanza del quadro precedente stessa poltrona oggetti una prospettiva leggermente ribassata anche se sempre un po' dall'alto in basso stesso stile di pittura del quadro precedente ma diversamente dal quadro precedente ora Diamond si è affermato come fotografo e più rilassato tranquillo assorto questo quadro si intitola Terreno incolto con case del 70 72 una grande tela 167 per 101 sembra quasi una fotografia è dipinto con una cura estrema dei dettagli alla ricerca di una riproduzione fedele della realtà forse dalla finestra del suo studio e mostra in primo piano cumuli di immondizie tanto per non smentirci ecco un quadro due piante del 77 80 di 152 circa per 121 quindi molto grande e perché Freud ha dipinto quadri anche che hanno per soggetto le piante che si trovavano anche nel suo studio e come vedete è in grado di renderle anche foglia per foglia con infinita cura mettendoci anche in questo caso molti mesi per cogliere luci e ombre e strumature sarà solo a fine anni 70 nel 77 che si trasferirà al 38 di Kensington Church Street nella zona di Holland Park Notting Hill dove resterà fino alla morte nel 2011 ecco l'edificio e divenne poi la sua casa e il suo studio erano lì vicini qui vediamo era composto lo studio era composto di due stanze le foto mostrano i muri gli stipiti imbrattati dal colore raschiato dalla tavolozza perché lo studio era una stanza di lavoro e quindi non più ordinata di tanto e sui muri si trovano anche i numeri di telefono appuntamenti c'erano poi i muri di strassi usati per pulire i pennelli il suo studio era composto di due stanze una che si affacciava sul retro a nord-est ed era lo studio dove dipingeva le opere alla luce del giorno e l'altra verso ovest con le tapparelle tenute chiuse illuminate artificialmente per le opere in notturna con quattro lampade dal soffitto di 500 watt se iniziava un quadro e la luce del giorno non passava poi alla luce elettrica lavorava fino a 3-4 quadri contemporaneamente tutti i giorni dell'anno iniziava il mattino si riposava riprendeva alle 18 avremo occasione di vedere elementi in questo studio in molti ritratti perché Lucien non è uomo di grandi spazi e paesaggi ma lo studio è il suo mondo e l'ambiente in cui inserisce i suoi modelli è il luogo che lui conosce bene perché ci vive e lavora ma torniamo ai suoi ritratti queste volte i soggetti sono i figli Freud ebbe forse 30-40 figli come hanno calcolato gli amici solo che quelli eccedenti il numero di 14 vennero dalle madri adulte raddebitati agli sposi legittimi nel 61 gli nacque addirittura tre figli da tre donne diverse non vise con i figli e a molti di loro non concesse nemmeno il numero di telefono riteneva l'arte non un mestiere ma una vocazione che richiedeva un impegno totale abbiamo qui la foto di Annie la prima figlia avuta da Kitty Garman e il suo ritratto a destra che è del 62 un 81 circa per 71 poche pennellate vedete poche larghe pennellate lo sguardo rivolto verso l'alto ancora della figlia Annie del 63 questa piccola tela 34 per 28 che si intitola Bambina nuda che ride ecco in realtà è appunto la figlia Annie che ha 14 anni la cosa ci lascia un po' perplessi magari comunque questo quadro seppur è un nudo è più tenero e sobrio di molti altri quadri che vedremo Annie è ereditato dal padre lineamenti forti e forse la favorita è un quadro importante lui ha 41 anni quando lo completa è proprio il periodo anche in cui la sua arte raggiunge la materità vedete come in realtà pochissime larghe pennellate definiscono tanto la figura quanto lo sfondo sul tema del nudo però torneremo più avanti ecco Annabelle l'altra figlia di Lucienne e Kitty Garman che vediamo in quest'altro quadro dell'87 35 per 30 circa ancora Annabelle che dorme l'87 88 un 38 per 56 abbiamo qui invece Bella che è la figlia di Lucienne e Bernardine Coverley nel suo ritratto dell'86 piccolo ritratto 22 circa per 16 doppio ritratto dell'86 della figlia Bella ancora col cane Pluto che Lucienne le aveva regalato spesso Lucienne ritrae nei suoi quadri umani e animali anche i suoi amati cani ancora un doppio ritratto della figlia col cane Pluto sempre dell'88 90 lo stile è sempre lo stesso quello delle larghe pennellate abbiamo una una Esther la figlia sempre della Lucienne Bernardine Coverley che poi diventerà scrittrice in questo ritratto appoggiato con la testa a un cuscino dell'83 anche questo piccolo ritratto 35 e 5 per 21 vedete c'è il gioco di luci ombre sempre con queste pennellate ecco qui Esther e Bella questo quadro l'87 88 di 73 7 per 88 e 9 sdraiate sul solito divano la madre abbiamo detto era Lucy Brush qui lo vediamo con col figlio nel 1980 in una foto del 1980 abbiamo detto anche che la madre apparteneva a una ricca famiglia tedesca di mercanti e alla morte del marito nel 70 però lei cade in depressione tenta addirittura il suicidio Lucienne aveva fatto già alcuni ritratti prima ma è proprio negli anni 70 che ne fa soggetto di molti dei suoi quadri più importanti fino a ritrarla addirittura sul letto di morte eccola in un ritratto del 72 piccolo quasi 18 per 14 centimetri ancora in un ritratto del 73 madre 4 questo si chiama large interior W9 cioè grande interno W9 sempre del 73 91 per 91 qui la madre anziana i capelli bianchi il volto segnato dalle rube siede tutta vestita in primo piano su una poltrona con a fianco a terra un pestello dietro sdraiata sul letto una giovane donna mezzo nuda mezzo coperta che fissa il soffitto punto di vista dell'osservatore fortemente rialzato lo spazio ristretto tonalità spente di colore ciascuna delle due donne sembra sorta nei suoi pensieri inconsapevole l'una dell'altra a dare un insieme una sensazione di solitudine e malinconia qui è madre che legge del 75 65 per 50 circa ancora madre che riposa nel 76 90 per 90 sdraiato sul letto e questo è un madre dell'84 la madre morirà poi nell'89 la madre